Partito al piano di riqualificazione opera del comune per il complesso monumentale delle cento fontane, una delle aree storiche del comune di Torre del Greco. Da tempo, in stato d'abbandono, le fontanelle in passato raccoglivano le acque di una sorgente naturale, alimentata dall'antico fiume Dragone, che nasceva alle radici del Vesuvio. Il sito, visibile oggi, nasce dall'opera di scavo del reverendo Don Gaetano De Bottis, per incarico dell'Università di Torre del Greco, effettuata nel 1783. Sommerso da numerose eruzioni, rispettivamente nel 1794 e nel 1861, fu recuperato negli anni successivi, con numerosi abbellimenti e ristrutturazione del padiglione, definitivamente inaugurato nel 1879. Il quartiere invocava questa rinascita da tempo e dalle immagini effettuate dalle nostre telecamere, il sito appare più pulito e l'opera di bonifica continuerà nelle prossime settimane, non solo in ottica di valorizzazione del sito, ma anche di riqualificazione dell'intera area.